Il Kosovo avrà un proprio esercito di 5.000 militari. Il primo ministro Ashim Tachi ha annunciato la trasformazione in forze armate dell'attuale Forza di Sicurezza, 2.500 unità leggermente equipaggiate, sostenendo che permetterà di garantire meglio la sicurezza del Kosovo, autoproclamatosi indipendente sei anni fa, e della regione. Il Parlamento dovrebbe adottare la misura a fine mese, quasi un anno dopo la normalizzazione dei rapporti con la Serbia, che tuttavia non riconosce il paese, attraverso l'accordo mediato dall'Unione Europea. Ma Belgrado ha già chiesto alla Nato di garantire che l'esercito kossovaro non entri nel nord a maggioranza serbo senza il permesso dell'Alleanza Atlantica. Attualmente la Nato è presente in Kosovo con 5.000 soldati.